Si è pensata alle grandi opere ma non è stata curata l'ordinaria amministrazione. Il consigliere di minoranza Francesco Marsiglia ha commentato così l'estate 2015 di Praia Mare. Per il segretario del circolo locale di Sello un esempio può essere la recente ordinanza sindacale con cui è stato interdetto alla balneazione il lato sinistro del canale Fiumavella. Il primo cittadino, ha detto Marsiglia, a giugno si vantava di aver risolto il problema in quattro giorni ma il 19 agosto si è ripresentato. È stato interdetto un tratto di arenile pari a 700 metri nel centro di Praia Mare. Sempre a giugno aveva indicato al sindaco la possibilità di usare allo sbocco della Fiumarella un sistema raggio UV ma sono stato deriso. Eppure gli esempi in Italia non mancano come per il Po. Insomma tutto è ruotato intorno al Viale della Libertà. Il resto è stato trattato con troppa superficialità. Spero che il primo cittadino ci ascolti. Per Marsiglia inoltre l'ordinanza 79 del 25 agosto non è stata redatta correttamente perché non sono stati indicati né i metri né le coordinate geografiche in cui si estende il divieto. Pertanto ha spiegato Marsiglia un cittadino non sa dove può fare il bagno. Capitolo spazzatura anche per il servizio di nettezza urbana il consigliere di minoranza da ridire. Principalmente sull'abbandono dei rifiuti che in alcune zone periferiche di Praia Mare è stato frequente. Sono d'accordo sul discorso che l'inciviltà ha fatto la sua parte ha spiegato Marsiglia. Ma perché non si è provveduto a far circolare nel pomeriggio un mezzo addetto alla raccolta della spazzatura lasciata ai margini delle strade? Alcune zone quali il Fortino hanno pagato lo scotto maggiore. Credo che l'amministrazione debba garantire anche questo ai cittadini e ai turisti.